Bene, adesso siamo passati agli agnoli, mantovani in brodo, la sfoglia è di fave, li facciamo piccolini come dei bottoni, abbiamo fatto uno stracotto di manzo, guardate, con cui li stiamo riempiendo, arricchito con delle noci da macadamia per dare la consistenza del formaggio grana che ci andrebbe. E poi li cuoceremo in un fantastico brodo molto limpido, molto chiaro che abbiamo fatto cuocere per tre ore, adesso ve lo faccio vedere, andiamo sul brodo, apri il brodo, pranzi, eccolo qua, adesso lo filtreremo e poi ci cuociamo il piccolo bollore di agnoli, guardateli qua, guardate che belli, sono piccolissimi, sono bravissime, Tutti bravi, guardate quante sfogline abbiamo oggi, ciao!